La vicenda dei Ferragniets giunge al termine come? Era iniziata. Attraverso i social media. Dal selfie di Chiara senza fede nuziale, alle immagini di famiglia con i figli, fino agli aggiornamenti sulla nuova vita nella loro casa la priorità è proteggere i nostri piccoli. Hanno dichiarato. Ma sarà davvero così che si conclude la loro fiaba digitale, seguita da milioni di follower? L'amore può essere cieco. Ma sui social media ogni dettaglio è ben visibile. La domanda ora è se Fedez e la Ferragni resteranno uniti in questa battaglia finale, o se ognuno cercherà di proteggere se stesso. Entrambi parlano della necessità di tutelare i figli. Mettendoli al primo posto. Una priorità che risuona nella vita reale. Almeno questa volta. Fedez e Chiara, una volta simbolo dell'amore moderno, si trovano ora a confrontarsi con una sfida che va oltre ogni post sponsorizzato? La realtà. In un mondo in cui l'immagine conta più di ogni altra cosa. Sarà difficile distinguere tra il vero amore e la semplice costruzione di una immagine per ottenere like. Grazie. 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 Grazie.